si un'altra cosa molto grave è legata al fatto che il personale serenissima ad oggi non gli è stato fatto nessun tampone nonostante siano lavoratori dell'ospedale come tutti gli altri lavoratori serenissima non è stato ritenuto di dover fare un tampone serenissima esplicita richiesta ha detto che i lavoratori se vogliono che gli venga fatto un tampone devono fare richiesta personale per farsi fare il tampone questa cosa qui è assolutamente vergognosa sono lavoratori dell'ospedale come tutti gli altri e come tutti gli altri devono ricevere tutte quante le cure del caso e devono poter avere accesso a tutti i controlli del caso un'ultima cosa sulla cassa integrazione è incredibile che un'associazione da più di da un che una società da più di 6.000 dipendenti come serenissima non sia in grado né di anticipare la cassa integrazione né tanto meno di ritrattare con le aziende per le quali con le quali ha degli contratti di appalto la possibilità di anticipare questi soldi questo vuol dire condannare in un momento in cui c'è già poca disponibilità di soldi centinaia di famiglie alla fame per dei mesi e noi della carità che ci venga anticipata la 14esima mensilità non ce ne facciamo niente noi vogliamo i nostri diritti noi vogliamo che venga che ci venga retribuita la cassa integrazione e chiediamo anche che serenissima integri al 100% questa cassa integrazione perché il lavoro dei servizi e questo è il momento in cui è più evidente di tutti è assolutamente fondamentale se la terzializzazione l'esternalizzazione di questi servizi porta a questo allora evidentemente è il sistema dell'esternalizzazione che è sbagliato e se le società a cui viene esternalizzato non sono in grado di rispondere a queste esigenze forse è il caso di ripensare l'esternalizzazione rintegrare i lavoratori rinternalizzarli con le aziende direttamente appaltanti ed evitare la privatizzazione continua che ha portato a questo disastro grazie grazie grazie